Non bisogna essere dei tecnici per rendersi conto che sarebbe finita così, tant'è che già da tempo io ho inviato delle note al Libero Consorzio per sollecitare un intervento. Mi dispiace che adesso bisogna intervenire a seguito anche di tutte le conseguenze che si stanno determinando, però al di là delle competenze avevo sollecitato. Devo dire che ho trovato l'immediata disponibilità dell'amorevole Pellegrino per investire nella questione anche il governo della regione, la protezione civile, perché è chiaro che tutto questo noi non possiamo mantenerlo a lungo, così non possiamo bloccare la viabilità di questo percorso che porta verso la zona sud della nostra città, anche per i problemi che ci sono sulla via Vecchia Mazzaro, quindi è assolutamente necessario provvedere. Mi dispiace, chiaramente questo non posso negarlo, che quando sono stati fatti di recente lavori di consolidamento tutto questo era assolutamente prevedibile. Quindi la regione vi darà una risposta celere, perché ovviamente il tratto interessato che noi vediamo dalle immagini è limitato, ma la gente si domanda è sicura questa provinciale? Noi abbiamo a seguito di un controllo da parte di un sopralluogo da parte dei tecnici congiunto comune libero consorzio, chiaramente interrotto il segmento, la parte assolutamente pericolosa. La SP84 è transitabile, quindi parzialmente, limitatamente a questo breve tratto non sarà percorribile, il punto adesso è intervenire il più velocemente possibile. Quindi noi speriamo che fra libero consorzio e regione si possa fare velocemente, per il resto se è aperta al transito è chiaramente percorribile la strada. I cittadini si domandano anche il tratto del lungomare colonnello maltese, la parte che è frontale al Baio Anselmi. È stato oggetto di piccoli lavori, però so che lì c'è un progetto. Sì, lì è stato fatto intanto un progetto di manutenzione per consolidare per quanto possibile. Noi avremmo la disponibilità di un finanziamento che dovrebbe essere confermato con la programmazione regionale in corso, quindi anche lì auspichiamo che il governo della regione possa confermare la disponibilità delle somme. Il progetto c'è già, l'aggiornamento è stato fatto e noi auspichiamo che dalla regione arrivi un intervento quanto più celere possibile. L'occasione, diciamo la circostanza, meglio ancora, della SP84 ci farà porre di rappresentare, ci consentirà di rappresentare subito alla protezione civile e alla regione le due questioni. Fermo restando che quest'ultimo che giustamente si ricordava è nella programmazione dell'ex agenda urbana e dovrebbe avere una priorità.